Verrò a vivere qua per un po' di tempo, sicuramente inizialmente per far partire un po' tutto quanto e seguirò il più possibile da vicino a seconda anche di tutti gli altri impegni cinematografici e non che abbiamo con tutte le altre nostre aziende, ma c'è grande passione, grande voglia di essere qui. È una città che ho visitato più volte, che ho sempre amato. A Bari, accanto alla città e alla squadra, Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio e nuovo presidente della società sportiva Calcio Bari, deve aver letto il messaggio del fondatore della squadra, Biancorossa Floriano Ludwig, prima di cominciare la conferenza stampa nello stadio San Nicola in cui si cominciano a scoprire le carte. A partire dall'allenatore Giovanni Cornacchini, già a lavoro sulla squadra a Roma, per passare al club manager Matteo Scala. Per Aurelio De Laurentiis e l'altro figlio Edoardo, il ruolo di presidente onorari. Si riparte dai giovani che, come dice De Laurentiis, saranno l'unico punto di contatto tra Napoli e Bari per la loro valorizzazione. Stop quindi all'idea di Gillet, mentre Brienza è il benvenuto, come ribadisce l'avvocato Pompilio, scherzosamente chiamato Numa dal patron, traghettatore di questa prima fase. Noi adesso stiamo monitorando insieme al management, noi come lato proprietà, insieme al management della società del Bari, dei profili molto interessanti e tra questi profili interessanti sicuramente ci sono anche alcuni ex calciatori del Bari. Hai parlato nello specifico di Brienza e io credo che soltanto un pazzo possa non essere interessato a verificare se c'è o meno, se esiste o meno l'opportunità di far riportare Brienza al San Nicola, perché è un vando in serie B e un lusso in tutte le altre categorie più basse. Chiaramente i matrimoni, come sapete, si fanno in due, il presidente De Laurentiis non ha mai lesinato nulla per acquisire, acquistare giocatori di grande importanza e non lo farebbe sicuramente per Brienza, però in questa fase capite bene che bisogna andarci con la massima cautela su tutto. Campagna abbonamenti al Via entro dieci giorni, con prezzi che andranno dai 90 euro per le curve ai 250 della tribuna d'onore. Si giocherà al San Nicola dove verrà fissata anche la sede societaria, una struttura su cui Aurelio De Laurentiis si lascia andare ai complimenti e non solo. Questo vale cento volte il San Paolo, sta scherzando? Dovete ringraziare il vostro sindaco che ha avuto la forza di manutentarlo al di là di tutto in questi ultimi quattro anni che non era più nelle mani dei Matarrese, è stato straordinario. Io questa mattina quando sono entrato ho detto ma ci avessimo noi un sindaco così a Napoli.